No, a noite. Ma quanta storia? No, qui era una volta quando la gente andava su in montagna con gli animali d'estate per dopo tornare d'inverno e hanno rappresentato questo. Ah, qui invece? Labroris. Sì, il contrabbando di tabacco. Che qui dicevano che c'era i contrabbandisti, il contrabbando di tabacco e tutto quanto. Allora, abbiamo fatto le immagini di lì. Bonita pittura. Invece questo è il ponte delle catene. Il ponte delle catene, io vi in foto. Il ponte delle corde. Ah, questo è comunale. Ah, non si può leggere. Devi venire qui durante il giorno. Devi venire qui nel giorno, Artur. La notte non c'è. Non c'è. No c'è il ponte nuovo. Il ponte nuovo. Adesso si va con quello in macchina, se non qui una volta passava le macchine. Macchine. Ah, solo qui passava la macchina? Come prendono i manchina? Perchè, sono piccoli? Proprio, giusto, giusto. 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 I giusto. Ma che parezza. Come dice in italiano che è il medo, Artur? Non c'è. Paura. Da potenza si può essere. Giusto è giusto. Guardate che... Guardate comunque. Guardate questo plastico. Guardate qui. Guardate, ma cosa. Guardate qui... Guardate qui. Sto parlando! Gente, la notte, che cosa Sto anche con medo, mio figlio Qui ragazzi N'estate Vengono qui, in piedi E si tuffano giù di qua Ah, di jumping, jumping Senza corde Senza corde? E dopo il nuoto vanno da qua Vengono qua e si tuffano ancora Io, mai fatta Tu non? Ah, io non També non Ah, questa ponte Da merda E la notte? Andando su di qua Quanto metro Quanto metro Da ponte Da acqua Da acqua Ah, da qua all'acqua Quanto metro 30-40 metri 30-40 metri E' alto Penso, ma non sono sicuro Qua E qua ci sono altre frazioni più piccole Frazioni Frazioni? Arsie, Rocca, Mellame, Fastro E qui c'è Corlo Un paesino piccolo Un paesino piccolo Cinque o sei case Cinque o sei case? E d'estate è abitato E d'estate è abitato E d'estate è abitato E d'inverno c'è una o due famiglie Un' e due famiglia Que habitam Un' e due famiglia Ai Oi Da pra ver o refleto Da, da pra ver o refleto De dia A pedra fica Ilumina A pedra Tá dando refleto Tá iluminando aqui também A claridade Non tem perigo Non peligro Peligroso 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 A noite Da solo Su di qua Non andrei Non andrei? Ah ok Voltemos Voltemos No Magari non succede niente Però No Non Non sai mai chi trovi Si Con Luca Si Tutto bene Tutto bene Con Luca Luca Vici Vici di Arsiae Tutto bene Non va a acontecer Nada con lui Molto interessante Ma dà medo Sta balançando Questo negócio Nossa Nunca andrei Numa ponte Assim Ferro E madeira Ai Com balança Quanto Ficou Mais Mais C'è la strada Stretta De sera Non é tanto bella Senão Bela diga Bela diga La diga Dove Corrente Corrente Eletricità Ah Eletricità Si Ah É uma represa Deve ser isso Quais animais tem aqui? Qui? Animais Anitre 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 Aironi Aironi? Chi è Aironi? Sono uccelli grandi Mamifero? No no uccelli Uccelli? Quelli che mangiano il pesce Pesce? Sono alti così Grigi Con il becco lungo E vanno giù Prendono il pesce E se lo mangiano O che è questo? O che è questo? O che è questo?